Una ragazza di 20 anni è stata barbaramente uccisa questa notte a Milano in un appartamento in via Brioschi, fermato un uomo con l'accusa di omicidio. Il 39enne l'avrebbe ospitata in casa con la moglie. Scontro a distanza tra Gori e Fontana sulle moschee e rapporti con l'Islam. Gori propone delle regole chiare, un patto con l'Islam moderato. Fontana risponde io il patto lo faccio con i lombardi, centri irregolari vanno tutti chiusi. Scontro nel centro-destra sul servizio militare obbligatorio. Salvini rilancia la leva, civile o nell'esercito, per formare i ragazzi. Mentre la russa risponde ci sarebbero troppi problemi. Il sindaco Sala scommette su EMA e sul probabile trasferimento dell'Agenzia del Farmaco a Milano dopo la richiesta di stop al trasferimento della sede da Londra ad Amsterdam. Buonasera e buonasera anche dal TGN. Benvenuti a questa edizione serale che apriamo purtroppo con una brutta notizia di cronaca perché una giovane ragazza di 19 anni è stata trovata morta, uccisa, accoltellata in un appartamento in via Brioschi a Milano. È stato fermato un uomo, un italiano di 39 anni, fa il tramviere ed è accusato di omicidio. Ci racconta tutto Jacopo Casoni. L'allarme pare l'abbia dato lui stamane verso le 10 e mezza quando è uscito con gli abiti insanguinati dal suo appartamento al secondo piano di via Brioschi al Civico 93 e ha detto al custode ho una ragazza morta in casa. Alessandro Garlaschi, tramviere di 39 anni, è stato fermato per l'omicidio della ventenne Jessica Valentina Faoro dopo che gli inquirenti l'hanno torchiato per ore proprio sulla scena del crimine. Più volte la polizia e la scientifica hanno passato al setaccio questa struttura al centro del cortile, il locale dell'immondizia, alla ricerca del coltello usato per uccidere la ragazza. L'omicidio risalirebbe alle 4 e mezza di stanotte quando la moglie di Garlaschi non era in casa e secondo le prime ipotesi alla base potrebbero esserci avance dell'uomo rifiutate dalla giovane. Lui ha detto agli inquirenti che l'alterco sarebbe iniziato mentre lei gli stava facendo un'iniezione per il diabete. Garlaschi, rimasto lievemente ferito, avrebbe anche cercato di disfarsi del cadavere ma i dettagli di quanto accaduto nell'appartamento sono ancora al vaglio della squadra mobile. Di certo c'è un quadro complesso, difficili dinamiche familiari anche se resta ancora da chiarire il rapporto tra la coppia e la ragazza che da poco frequentava l'appartamento. Io e i vicini l'abbiamo visto però al parco con un cane, poteva essere anche una conoscente, non chiediamo, non avevamo confidenza. Io a lui l'ho visto poche volte, sembrava una persona normale. Una coppia schiva, così la raccontano i condomini di via Brioschi che aveva appena cambiato casa spostandosi di una scala, probabilmente per un rapporto complicato tra Garlaschi e una collega che lo aveva anche denunciato qualche anno fa. Non l'unico problema per il tramviere che ultimamente era stato coinvolto in troppi incidenti mentre era alla guida dei mezzi. Un quadro tutto da chiarire, insomma, quel che resta è una vita spezzata brutalmente all'altezza dei vent'anni. Questa ragazza di vent'anni era figlia, pensate all'ironia della sorte, di un conducente della linea 2 della metropolitana milanese. Cambiamo argomento, ma restiamo nella cronaca nera perché c'è stato un terribile scontro tra auto e moto in via Montebianco, ad angolo con via Silva a Milano. Nell'incidente avvenuto poco dopo le 13, ci sono rimasti feriti due uomini. Il più grave, un 35enne, è stato trasportato all'ospedale Niguarda in codice rosso. Le sue condizioni sono state giudicate subito, critiche, mentre non destano preoccupazioni le condizioni dell'altro ferito, 21 anni, trasportato in codice giallo all'ospedale San Carlo. Per prestare soccorsi sono intervenute tre ambulanze e un'automedica. Sul posto, per i rilievi e per ricostruire l'esatta dinamica, è intervenuta la polizia locale. Ancora cronaca, la modella inglese Chloe Eiling, sequestrata lo scorso luglio a Milano è minacciata di essere messa all'asta e venduta su una deep web e poi liberata dopo una richiesta di riscatto subito una serie di violenze fisiche, tra cui l'ammanettamento, il fatto di essere stata narcotizzata e anche di essere trasportata dentro una valigia fino al Piemonte e più altre pressioni psicologiche. Lo hanno raccontato alcuni investigatori della squadra mobile che ha condotto le indagini. Nel processo milanese a carico di Lucas Erba, il trentenne polacco di Birbingan, finito in carcere il 17 luglio scorso per il rapimento che avrebbe messo in atto insieme al fratello Michael Conrad Erba. L'uomo, arrestato in Gran Bretagna un mese dopo il fratello, preso invece in Italia ancora in attesa che si concluda la procedura di estradizione dall'Inghilterra. Ora la pagina politica, ampia pagina politica. Partiamo dal centrosinistra perché un tweet di Giorgio Gori in risposta a Salvini riapre la questione sulle moschee. Il candidato governatore del centrosinistra propone un patto con l'Islam ma vediamo i dettagli nel servizio di Jacopo Casoni. Il tweet inizia con una provocazione, quel Ha ragione Salvini che non ti aspetti, soprattutto se a scrivere, è Giorgio Gori. Ha ragione Salvini sul fatto che le moschee illegali non dovrebbero esserci ma prima, spiega il candidato del centrosinistra a Palazzo Lombardia, si dovrebbe garantire il diritto costituzionale di pregare in luoghi dignitosi. Ho rilanciato una cosa che ho fatto a Bergamo, cioè aver riportato in sede locale il patto con l'Islam che il ministro Miniti ha concluso con tutte le principali comunità islamiche italiane che prevede anche dei doveri. In questo caso sono essenzialmente sermoni in italiano, lista degli imam e trasparenza sulle fonti di finanziamento nella costruzione delle moschee. Io penso che sia una cosa di civiltà e quindi ben volentieri sono per chiudere i luoghi illegali. Sappiamo però che in Lombardia sono la conseguenza del fatto che qui da alcuni anni è vietato attraverso una legge urbanistica che quindi nulla centra con la questione la costruzione legale di luoghi di culto. Eccola la stoccata alla linea di Maroni e della Lega, a quella legge anti-moschee foriera di tante polemiche. E non è l'unica distilettata perché Gori sottolinea come il suo principale competitor, Attilio Fontana, si stia sottraendo al confronto. Mi piacerebbe potermi confrontare un po' di più. Come sapete, visto che il mio principale avversario invece si è reso indisponibile fino ad oggi a qualunque tipo di confronto diretto. Mi dispiace perché credo che qualunque platea potrebbe apprezzare la differenza. Queste le parole di Gori, ma vediamo la risposta di Fontana. Detto oggi Gori propone un patto con l'Islam senza sapere che l'Islam non ha una propria gerarchia per cui non c'è nessuno in grado di prendersi impegni per conto della comunità islamica. Per secondo Fontana si rischia di firmare accordi che non hanno valore, di legittimare associazioni che in molti paesi islamici sono considerate estremiste. Proprio per questo sono state messe al bando. L'unico patto che firmo, ha detto Attilio Fontana, è quello con i cittadini lombardi che mi chiedono legalità e sicurezza. E queste parole di Giorgio Gori hanno provocato una serie di reazioni nel centro-destra con la Lega in particolare che accusa il candidato presidente del PD di voler prendere solo qualche voto in più da parte appunto dei residenti musulmani. Nel frattempo anche il Movimento 5 Stelle oggi ha attaccato Attilio Fontana. Ci racconta tutto Michele Lanati. Gori fa il leghista solo per prendere qualche voto in più. A dirlo è il segretario lombardo del Carroccio Paolo Grimoldi accusando il candidato alla presidenza della regione Lombardia del PD di aver annunciato di voler chiudere i centri islamici illegali solo per guadagnare consensi. Gori, ha spiegato Grimoldi, qualche giorno fa annunciava trionfante l'alleanza con Emma Bonino che propugna la regolarizzazione di oltre mezzo milione di clandestini centomila dei quali in Lombardia e ora si contraddice, si chiarisca le idee. Nel frattempo proprio a Milano oggi il segretario nazionale della Lega Matteo Salvini ha rilanciato l'idea di reintrodurre la leva obbligatoria per sei mesi spiegando che i soldi volendo si trovano e che i ragazzi, sia uomini che donne coinvolti avranno la possibilità di scegliere tra il servizio militare vero e proprio e quello civile. Credo, ha concluso il leader del Carroccio, che per il bene dei giovani sia meglio battagliare in Parlamento per la reintroduzione della leva obbligatoria che per la legalizzazione della cannabis. Alla Lega e in particolare al suo candidato alla presidenza della regione Lombardia Attilio Fontana arriva però un attacco da parte dell'omologo di Fontana per il Movimento 5 Stelle Dario Violi che, a proposito di immigrazione, ha accusato l'ex sindaco di Varese di dare i numeri e di lucrare su un tema, quello dell'accoglienza che vede la Lega insieme a Forza Italia corresponsabile di aver firmato nel 2003 il trattato di Dublino che ha messo l'Italia nelle condizioni di dover tenere tutte le persone che arrivano nel nostro paese. E sull'Islam e sulle moschee hanno parlato anche gli esponenti di Liberi Uguali in particolare il candidato alla presidenza Onorio Rosati che dice che noi di Liberi Uguali proponiamo l'azzeramento della cosiddetta legge anti-moschee fatta dal centro-destra in regione Lombardia e diciamo che fino a quando non si costruiranno moschee nel diritto di queste persone poter pregare in altri luoghi. Se questi luoghi sono i centri islamici che preghino all'interno di questi centri aggiunto, in questa ragione viene negato il diritto costituzionale della libertà di culto lo si fa in ragione di una ideologia islamfomofica ma in realtà si nega il diritto di culto a tutte le religioni. Questo secondo Rosati è un problema legato al tema dell'integrazione di fasce di popolazioni. La Lega ha un'idea distorta che tutti i musulmani che ci sono in Lombardia siano immigrati clandestini, invece la grande maggioranza sono italiani e a loro viene negata la possibilità di poter pregare come prevede la Costituzione italiana. Sostanzialmente Rosati dice non solo di non chiudere i centri islamici ma finché appunto la legge regionale anti-moschee è in vigore lui dice giusto che le persone musulmane preghino anche nei centri abusivi quindi è contrario alla chiusura dei centri abusivi così come chiede la Lega e come chiede anche il centro-sinistra con Giorgio Gori. Questo era il tema appunto del giorno ma c'è un altro argomento che ha spaccato questa volta il centro-destra al suo interno ovvero la reintroduzione della leva obbligatoria. Il primo ad averne parlato è Matteo Salvini che ha detto un servizio di leva obbligatorio, civile o militare ma soprattutto militare servirebbe anche a integrare i ragazzi che sono venuti qui dall'altra parte del mondo e che cresceranno con l'amore per l'Italia quindi in qualche modo è anche una sorta di apertura di Salvini agli stranieri che si trovano in Italia perché appunto secondo lui la leva potrebbe aiutarli a sentirsi più italiani. Gli ha risposto Ignazio Larussa candidato per Fratelli d'Italia ma soprattutto ex ministro della difesa dice Larussa noi sappiamo bene le difficoltà che ci sono per ripristinare la leva obbligatoria e per questa ragione non vogliamo alimentare speranze inutili. Fratelli d'Italia ha proposto di allargare a 40 giorni la legge che c'è già e che abbiamo voluto noi che la sinistra non ha più finanziato e che consente a chi vuole partecipare per tre settimane di vita alle Forze Armate una partecipazione che dà accesso a tutta una serie di crediti anche universitari o per i concorsi perché avvicinarsi alle Forze Armate è un qualcosa che forma il carattere che aiuta a capire l'importanza del servire la patria e che allontana le nuove generazioni da atteggiamenti che ci piacciono meno. Quindi anche Larussa fa un'apertura alla leva ma una leva solo di 40 giorni perché dice reintrodurre il servizio di leva totale sarebbe insomma foriero di grossi problemi. Per quanto riguarda invece i rapporti tra il centro-sinistra, il PD e l'EU c'è un'apertura da parte di Pierfrancesco Maiorino che ha detto con Laura Boldrini ho appena fatto una bella chiacchierata abbiamo discusso di Milano, di diritti, di antirazzismo e di buona politica. Dice ancora Maiorino ho rinnovato alla Boldrini tutta la solidarietà per le accuse, per le foto, i fotomontaggi che ha subito la Boldrini in questi giorni e quindi in qualche modo Maiorino si auspica un confronto con la Boldrini per il meeting, la manifestazione, la marcia antirazzista prevista per il 20 di maggio del prossimo, appunto il prossimo 20 di maggio. Ancora politica, sono stati presentati questa mattina i candidati milanesi della lista Gori Presidente. Vediamo. Stamane presentazione in grande stile per la squadra milanese della lista Gori Presidente. il candidato del centro-sinistra li ha chiamati uno a uno sul palco del comitato elettorale in corso Buenos Aires una parola per tutti e da tutti a partire da Giovanni Battista Armelloni ex Presidente delle ACLI milanesi poi assessori dei comuni dell'Interland personaggi legati alla cultura e al terzo settore dipendenti di Regione Lombardia a rappresentare il capoluogo a livello istituzionale Elisabetta Strada, capogruppo della lista Sala a Palazzo Marino. La mia campagna si baserà sul concetto Lombardia in testa, Milano nel cuore perché credo che solamente facendo un passaggio in Lombardia si possano fare quelle norme che portano un miglioramento alle nostre città, ai nostri territori. La giornalista Francesca Olivi, attiva sul fronte dei diritti dei malati torna sul tema della cronicità al centro della riforma sanitaria di Maroni. Spesso si pensa alla malattia cronica si pensa purtroppo a persone anziane però ci sono tante persone, tanti bambini, tanti giovani che sono attivi nella società e ogni giorno si trovano davanti degli ostacoli e delle difficoltà. Ecco, io vorrei cercare di aiutare i malati ad eliminare queste difficoltà. Chiuso anche un accordo con il movimento delle famiglie separate Gori si è impegnato ad aumentare le risorse stanziate passando da 2 a 10 milioni ma è il registro della bigenitorialità il fulcro di questa intesa. È vitale, permette di garantire stessi diritti di entrambi i genitori durante la separazione. Il problema anche dei nonni che è vitale in Lombardia esistono circa 1 milione e 200 mila nonni che hanno figli di persone separate anche loro hanno i loro diritti. C'è stata un'esplosione che ha originato un incendio nel primo pomeriggio all'interno dell'ecosfera di Bulgaro Grasso in provincia di Como si tratta di un'azienda che tratta rifiuti speciali 7 le persone soccorse dal 118 in particolare 2 sono 2 feriti in codice rosso scusate un ferito in codice rosso e 6 in codice giallo l'esplosione è stata avvertita anche a centinaia di metri di distanza e si è verificata in un silos che poi ha preso fuoco con altissime fiamme che erano visibili anche a lunga distanza l'onda d'urto ha danneggiato anche alcune auto nel piazzale dell'azienda l'esplosione si è verificata in un serbatoio verticale e ha coinvolto anche due serbatoi adiacenti sono state evacuate 4 abitazioni nelle vicinanze dello stabilimento sembra comunque che non ci siano non si siano diffusi vapori particolarmente tossici quindi non dovrebbero essere non dovrebbe esserci problemi o allarmi per l'ambiente appunto circostante nuovo capitolo capiamo argomento nuovo capitolo nella querella relativa all'assegnazione dell'agenzia europea del farmaco il comune di milano ha depositato una richiesta per sospendere il trasferimento della sede da londra ad amsterdam intanto il sindaco di milano beppe sala annuncia che è il momento di combattere lui ci crede ancora crede che ema possa essere trasferita a milano vediamo sospendete il trasferimento della sede dell'agenzia europea del farmaco da londra ad amsterdam lo ha chiesto il comune di milano presentando un'istanza formale alla corte di giustizia dell'unione europea oltre ai due ricorsi presentati dal comune stesso e dal governo italiano per chiedere la revoca dell'assegnazione di ema alla capitale olandese e assegnarla al capoluogo lombardo dunque è stata anche depositata una richiesta di sospensione del trasferimento motivata dall'urgenza della situazione e per prevenire un eventuale danno grave e irreparabile a una delle parti la commissione europea ha preferito non commentare la richiesta di sospensiva mentre tornano a parlare il presidente della regione lombardia e il sindaco di milano maroni dice che auspica un intervento politico perché ritiene difficile un accoglimento dei ricorsi non essendo state commesse palesi violazioni sala invece sottolinea l'importanza in questa vicenda del ruolo del Parlamento europeo e invita tutte le istituzioni italiane a credere nel clamoroso ribaltone mi pare che ogni giorno i dubbi aumentino rispetto alla proposta degli olandesi certamente non so io lo dico senza credo di modo di smentita non sono stati molto corretti perché hanno comunque lasciato intendere che la soluzione transitoria sarebbe stata sufficiente per le esigenze di EMA io sto sollecitando ancora il nostro governo ancora il presidente del consiglio in questo momento noi non dobbiamo non è problema di lamentarci né di fregnare perché sono stati penalizzati a sorteggio è il momento di combattere io ci credo ancora ci credo ancora molto speriamo che l'ottimismo di sala sia fuoriero di buone notizie c'è un'altra buona notizia le gemelline siamesi nate il 23 agosto scorso sono state separate con un intervento al Papa Giovanni XXIII di Bergamo l'intervento è avvenuto una settimana fa il primo del genere eseguito in Lombardia e tra i pochissimi in Italia alla nascita lo ricordiamo le bambine erano unite nella parte del corpo in cui corrono i dotti biliari il lungo intervento ha visto impegnate tre equipi di medici che hanno anche ricostruito i dotti biliari delle bambine che ora si trovano nella condizione di poter vivere separate le figlie sono le bambine sono figlie di una coppia residente in Lombardia e sono state portate in terapia intensiva e da un paio di giorni sono già in chirurgia pediatrica quindi questa è decisamente una bella notizia adesso vi facciamo vedere una foto particolare che è quella del fiume Seveso guardate questo blu sembra un blu bellissimo sembra un blu frutto di limpidezza in realtà non è per quello perché è stata la rottura di un tubo all'interno di un'azienda di Senna Comasco in provincia di Como operante nel settore della chimica per arti grafiche stampa e fotografie a provocare lo sversamento di circa mille litri di colorante blu nel fiume Seveso passando appunto attraverso la rete fognaria quindi quello che poteva sembrare un colore quasi naturale in realtà è frutto solo di uno sversamento di tinta e di colori cambiamo ancora argomento sono state pubblicate sul portale della diocesi di Milano sono le tracce che accompagnano questo primo momento del cammino del sinodo minore chiesa delle genti una sorta di questionari per alcune singole categorie che aiuteranno il confronto e la conoscenza reciproca Anna Maria Braccini nove tracce utili al confronto e all'ascolto che pubblicate da oggi sul portale della diocesi di Milano si propongono di favorire la partecipazione al cammino del sinodo minore chiesa delle genti e questo è il senso della documentazione che a modi formulari pensati per categorie accompagneranno l'itinerario sinodale fino a Pasqua le tracce sono state pensate con l'idea di permettere un'assunzione un'assimilazione migliore del testo guida e soprattutto della sua funzione che è quella di accendere un movimento di pensiero che non sia solo una riflessione astratta su un problema che rimane esterna a noi ma di accendere un processo dentro il quale le singole comunità cristiane si mettono si investono e iniziano a pensare con appunto queste presenze nuove che stanno cambiando la nostra chiesa e ci stanno arricchendo le tracce finora 7 quelle pubblicate delle 9 previste sono scaricabili da www.chiesadimilano.it e si possono rinviare compilate a sinodo chioccioladiocesi.milano.it entro il primo aprile qui l'idea delle tracce non è che vengano utilizzate semplicemente come domande alle quali io rispondo in modo privato ma sono potremmo dire il sentiero che deve disegnare una riflessione comunitaria fatta anche di momenti di ascolto e di confronto ad esempio con comunità di migranti con altre chiese con altre religioni così che alla fine anche la riflessione che io posso produrre per il sinodo non è semplicemente una risposta dei quesiti che privatamente avevo ma in realtà è il racconto di come la mia comunità sta cambiando si è messa in movimento di fronte a questo fenomeno che è la migrazione che sta creando un nuovo cattolicesimo anche a Milano una chiesa dalle genti e all'ultimo servizio mi fermo qui vi ricordo che dopo la sigla c'è la pubblicità poi come al solito c'è il meteo il nostro meteo con le previsioni del tempo poi a seguire c'è Nova Stadio TG con Luciano Rendone che vi racconta i fatti calcistici della giornata e poi il nostro talk Nova Stadio con Michele Marchetti i suoi ospiti appunto per commentare con gli ospiti tutto quello su cui c'è da discutere grazie arrivederci grazie